Ben ritrovati dunque la cronaca in apertura del nostro telegiornale perché c'è stata questa maxi operazione da parte della polizia a Lecce ovvero il proprio blitz che ha portato all'arresto di 22 persone, un giro di vite contro la prostituzione, vedete questo è il titolo del quotidiano, donne costrette a prostituirsi, sgominato il giro, 22 arresti, luse con la prospettiva di una vita migliore le ragazze portate in Italia, l'organizzazione che operava in Bulgaria le avrebbe poi condotte in strada, indagati anche alcuni italiani avrebbero contribuito in cambio di sesso, pensate ma vediamo il servizio su questa operazione. Sono 22 i soggetti, la maggior parte di nazionalità bulgara che all'alba di martedì 12 marzo sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare di cui uno ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Lecce Antonio Gatto, sostituto poi dal collega Alcide Maritati su richiesta della PM della Direzione Distrettuale Antimafia Giovanna Cannalire e delle colleghe della Procura Erika Masetti e Rosaria Petrolo. L'attività investigativa in seguito alla quale risultano indagate 30 persone ha permesso di individuare un'associazione a delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione e alla riduzione e al mantenimento in schiavitù di alcune donne, tutte di nazionalità bulgara. Quest'ultime sarebbero state fatte entrare in Italia con la promessa di un posto di lavoro da un connazionale di 44 anni. In realtà sarebbero state vendute all'associazione per poche migliaia di euro e introdotte in un giro di prostituzione, la cui base logistica, secondo gli investigatori, era un'abitazione situata in via Serafino Elmo a Lecce, dove su carta invece era stata dichiarata un'attività impegnata nel commercio di autovetture. Qui sarebbero avvenuti rapporti sessuali tra clienti e ragazze, le quali inoltre venivano anche accompagnate per prostituirsi sulla strada statale 101 all'altezza del comune di San Nicola, presso lo scalo ferroviario di Surbo in un'abitazione di Trepuzzi. Le attività di sfruttamento della prostituzione sono state documentate dagli uomini della squadra mobile di Lecce attraverso riprese video, intercettazioni telefoniche ambientali e servizi di osservazione. Nelle prossime ore gli arrestati si presenteranno dinanzi al GIP Antonio Gatto per gli interrogatori di garanzia. Grazie a tutti. Dopo aver chiuso le indagini lo scorso novembre, l'incidente tra questa mini che vedete nelle immagini guidata dal 31N e un autobus avvenne sulla statale 96 all'altezza di Modugno. Siamo in provincia di Bari, secondo gli inquirenti. Il 31N provò a sorpassare da destra due auto che lo precedevano e che avevano rallentato per permettere all'autobus di immettersi nella corsia, viaggiando a 120 all'ora in un tratto di strada in cui il limite è di 50. Nella manovra però la mini si sarebbe schiantata contro l'autobus e avrebbe finito la sua corsa contro un muro e i tre giovani persero la vita nel dicembre del 2022. Si va avanti col processo. E a proposito di incidenti stradali mortali, gravi in cui perdono la vita dei giovani, c'è stato l'ultimo saluto a Taranto per Sharon Bonillo, la 19enne che è morta in un incidente stradale avvenuto alla periferia del capologo ionico. Una folla commossa per salutare la giovane vita spezzata. Sharon era bellissima e amava la vita con tutta l'energia dei suoi 19 anni. Il suo sorriso, la sua passione per lo shopping, il suo essere tanto affettuosa. Via, via per sempre, dopo ore di agonia. Un'altra giovane vita si è spezzata sulla strada, una strada che ogni giorno che passa diventa nemica dei giovani d'oggi. Don Giovanni Chiloiro, parroco di Cuore Immacolato di Maria, dice dobbiamo chiederci perché, perché tanti giovanissimi perdono la vita in questo modo. Forse dovremmo imparare anche noi ad essere qui su questa terra, in questa casa che ci appartiene, imparare a vivere insieme. Con la famiglia, gli amici, quanti le hanno voluto bene, piange anche il cielo e piange ogni genitore presente. Mi raccomando, con le moto, con le macchine, bisogna avere la prudenza che sopravviene. E' tanto lo sgomento e tanta la paura di chissà che un figlio può uscire da casa e poi non fare ritorno e questo ormai sembra accadere sempre più spesso. E' adesso una notizia di poco fa, c'è stata una notte di fuoco a Taranto, in Viale Unicef, siamo alla periferia del Capologo Ionico, una zona molto popolosa, vediamo le immagini, un'auto ha preso fuoco creando un rogo abbastanza importante che ha coinvolto anche altre due auto che erano parcheggiate. Vedete, un'auto è andata completamente distrutta, mentre altre due vetture, come vedete questa Panda, una Peugeot, hanno subito gravissimi danni. L'incendio è divampato intorno alle due della notte appena trascorsa, sul posto si sono recati i vigili del fuoco ma anche le forze dell'ordine, sono state avviate le indagini, al momento non sono stati trovati elementi in grado di poter ipotizzare il dolo su questo incendio. Il cadavere di una donna di circa 70 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in un appartamento alla periferia di Foggia. A scoprire il corpo è stata la polizia intervenuta in seguito alla chiamata al 113 da parte di un'amica della donna preoccupata, perché non aveva sue notizie da diverso tempo. Da una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, stando a quanto si è preso, la morte sarebbe dovuta a cause naturali e risalirebbe a circa due mesi fa. Vediamo adesso questo titolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, vi ricordo che siamo sempre in diretta per la prima edizione dell'informazione di Antenna Sud, vedete parliamo di economia, lavoro, i nodi dell'acciaio, siamo a pagina 2 della Gazzetta del Mezzogiorno, con questo titolo apriamo la nostra pagina dedicata all'economia. Il governo non risponde e Xilva verso il blocco. Urso, il ministro, ha detto che siamo sulla strada giusta, ma riteniamo che la strada indicata dal ministro non si incroci con quella delle aziende. Imprese e lavoratori dunque si preparano ad una protesta che questa volta sarà davvero plateale. Finora sono state tante e anche, devo dire, abbastanza plateali le proteste messe in atto, soprattutto nel capologo ionico. Gli autotrasportatori sono quelli più decisi, almeno più determinati fino a questo momento, poi anche tutti coloro che fanno parte delle imprese dell'indotto, cominciare dagli stessi imprenditori per finire ai lavoratori, inferociti gli autotrasportatori dopo i preavvisi di fermo amministrativo dell'agenzia delle entrate. Pensate, questa gente che non viene pagata, che non riceve il corrispettivo delle fatture emesse in seguito ad un lavoro svolto, che deve pagare gli stipendi, si vede arrivare dall'agenzia delle entrate anche il fermo amministrativo dei loro mezzi. tutto normale per quel che riguarda la burocrazia, certamente, ma, viste le condizioni di questa gente che sta protestando da mesi e mesi e che non sa quale sarà il loro futuro, tutto ciò sa davvero di beffa. E intanto proseguiamo con la cronaca legata all'economia, ma parlando di una notizia positiva, Leonardo presenta il nuovo piano industriale, punta all'evoluzione tecnologica, all'intelligenza artificiale e alla crescita del segmento spazio. Nel 2023 ha fatto registrare un utile netto di 695 milioni di euro in calo, però, rispetto al 2022 questo rapporto è stato presentato a Roma, l'abbiamo seguito, anche perché poi c'è un riferimento all'aerospazio pugliese, di Grottaglia in particolare. Ma intanto vediamo questo servizio di Francesco Manigrasso. Leonardo spinge sull'innovazione e trasforma il suo modello di business da difesa a sicurezza con un'evoluzione tecnologica. Il CDA ha infatti approvato l'inanimità e il piano industriale 2024-2028 che stima di raccogliere 105 miliardi di euro di ordini complessivi con una crescita media annua del 4% e ricavi cumulati per 95 miliardi con un incremento medio annuo del 6%. Il piano prevede di rafforzare il core business di elettronica per la difesa di elicotteri e velivoli confermando il recupero delle aree strutture di cui la Puglia è ricca con siti a Grottaglia, Brindisi e Foggia e sfruttando le opportunità in sabere spazio. La Puglia, come tutte le altre regioni italiane, è strettamente legata a Leonardo, siamo ovunque tante altre regioni del mondo. Direi al momento possiamo aspettarci ragionevolmente momenti di crescita, non momenti di frenata. Utilizzeremo questi stabilimenti per far crescere anche e soprattutto l'indotto, perché un'azienda che fa tecnologia ha bisogno di giovani pugliesi, ragazzi e ragazze laureate nelle materie STEM che possano essere la parte principale dello sviluppo di queste tecnologie. Sulla elettronica Leonardo punta a diventare un player globale nel settore attraverso una maggiore competitività e investimenti, concentrandosi sull'offerta di base e facendo leva anche sulle partnership internazionali, un passaggio fondamentale attraverso l'intelligenza artificiale. Oggi fare una piattaforma complessa come un aereo, non avere AI in qualche modo nella progettazione, nel servizio eccetera, vuol dire fare un aereo che è già vecchio, quindi è una specie di senso unico, obbligatorio. Vedete i titoli dei giornali su questo argomento, Leonardo cresce, nuovi investimenti nei siti del sud, il futuro si avvicina, è quanto leggiamo sulla Gazzetta nel Mezzogiorno a pagina 3 nel servizio di Maristella Massari che è inviato a Roma. Andiamo sul quotidiano, vedete il quotidiano di Taranto, Leonardo si rafforza in Puglia ordini per 105 miliardi di euro, il piano industriale 24-28 del gruppo presente con aerostrutture tra Grottaglia e Foggia, elicotteri a brindisi ed elettronica per la difesa a Taranto tra gli obiettivi strategici, la sostenibilità e qui vediamo nella foto l'amministratore delegato DG Roberto Cingolani, il gruppo ha presentato il piano industriale 2024-2028, si punta prevalentemente a compiere un salto organizzativo tecnologico, scrive Domenico Palmiotti. Poi Aerospazio, tra una settimana vedete al via le seconde edizioni del MAM, ovvero il Mediterranean Aerospace Matching dal 20 al 22 marzo lo scalo Tarantino di Grottaglie ospiterà la seconda edizione che è stata presentata a Bari, vediamo il servizio. Oggi abbiamo circa 500 imprese e circa 7.000-8.000 addetti e quindi significa che è un settore per noi strategico, un settore su cui la Puglia ha puntato anzitempo ma che prova a svolgere un ruolo internazionale di riferimento. Sono i numeri del comparto dell'aerospazio pugliese raccontati dall'assessore Alessandro Dell'Inoci per il ritorno del MAM, Mediterranea Aerospace Matching di Scena a Grottaglie dal 20 al 22 marzo, droni, sistemi aerei senza pilota a bordo, autonomi ma anche aree espositive, flight zone, incontri business to business e start-up. Nel 2022 l'export ha toccato i 337 milioni di euro raggiungendo i 288 soltanto nei primi nove mesi del 2023 e con un balzo del 23,7%, un paniere di investimenti che soltanto per l'ente di Via Gentile vale 400 milioni di euro. Il MAM è quindi una delle leve, uno degli strumenti che noi abbiamo messo in campo per favorire non solo una specializzazione sempre più definita dell'aerospazio pugliese che per attrarre interessi, partecipazioni e direi anche investimenti. Grottaglie ha chiuso due giorni fa la Fiera Internazionale della Ceramica e apre fra qualche giorno la Fiera Internazionale dell'Aerospazio. Che dire, diventa crocevia dove si possono incontrare gli aspetti che danno identità e cuore alla città. Materiali più leggeri consentono agli aeromobili di consumare meno. La industria della ricerca, perché anche la ricerca è un'industria, intendiamo insediarla all'interno di questo aeroporto con il sistema universitario e attraverso il grande progetto Criptaglie che sarà svelato al pubblico l'ultimo giorno del MAM. Quindi tre giorni a Grottaglie presso lo scalo aeroportuale all'Arlotta dal 20 al 22 marzo per questo evento internazionale che ovviamente seguiremo per voi. Adesso apriamo la pagina dedicata alla politica, partiamo con le regionali in Basilicata. Non c'è la sintesi, non c'è un accordo da fermarlo, è il candidato di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, rientrato a potenza dopo l'incontro romano con i leader del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Vediamo il servizio del nostro Francesco Cutro. Non c'è la sintesi, non c'è un accordo, abbiamo discusso quello che non si è fatto per troppo tempo. Quando mancano dieci giorni alla presentazione delle liste per le elezioni regionali in Basilicata del 21 e 22 aprile prossimi, il cosiddetto campo largo non è ancora fatto sintesi sul nome del possibile candidato presidente che sfiderà l'attuale governatore Lucano Vito Bardi riconfermato dalla coalizione di centrodestra. Questo il quadro presentato da Angelo Chiorazzo, sceso in campo e autocandidato sia la guida della regione, sul cui nome però non si riesce ancora a trovare una convergenza delle forze politiche alternative alla destra, anche dopo il confronto con i vertici nazionali di PD e Movimento 5 Stelle. Abbiamo raccontato al presidente Conte e alla segretaria Jline quali sono i problemi che in questi mesi, forse un po' troppo in solitudine nella distrazione degli altri partiti, noi abbiamo fatto sul territorio. Io penso che alla fine immagino che se tutti mettono la responsabilità che abbiamo messo noi sul tavolo il risultato si troverà. La trattativa è ancora in corso, il dialogo è ancora aperto? Sì, c'è un dialogo ormai avviato, credo anche con senso di responsabilità, se c'è responsabilità da parte di tutti andremo insieme, tutte le forze che sono alternative, tutte le forze del campo moderato e progressista alternativo alla destra, alla destra che non sta facendo bene, che non ha fatto bene in questa regione e che non sta facendo bene. E adesso parliamo delle comunali a Bari, si avvicinano le primarie, Michele Laforgia si dichiara pronto e aspetta l'ufficialità delle date. Sull'immagine della Bari che verrà preferisce Lolita. Vediamo il servizio. Più che se la vede il PD è una battuta da Ponzio Pilato, se tu decidi di accettare le primarie devi dare il personale, i volontari per fare in modo che le primarie siano gestite dai due candidati che scendono in campo. I pontieri restano al lavoro, la mossa di Michele Laforgia non basta a sbrogliare la matassa delle primarie del centro-sinistra, i seggi per la consultazione che assegnerà la leadership del centro-sinistra a Baresi e alle comunali restano sei, ma la gestione degli stessi non è ancora chiara e i DEM chiamano la convenzione. Ci dobbiamo confrontare con, credo direttamente con Michele, per capire se l'organizzazione debba aspettare esclusivamente a noi e io mi auguro di no. Non fosse altro sulla composizione dei seggi, questo è un nodo importante perché credo che la parità della composizione debba essere un passaggio fondamentale e ineludibile. Altra storia per voto elettronico e pre-registrazione dei votanti che hanno rischiato di far saltare il banco fino all'ultimo, intanto da progetto Bari a Verdi, socialdemocratici e civiche vicini al sindaco uscente ribadiscono il sostegno a Leccese. Era una richiesta, un passaggio nostro, una premessa fondamentale, quindi ritengo e credo che la pre-registrazione del voto elettronico sia un tema superato. Noi diciamo che siamo a favore nelle primarie di Vito Leccese, poi ci sono altri amici di altre associazioni che sono nel limbo e che devono sciogliere le riserve, chi appoggiare? O Vito oppure Michele. Abbiamo visto un servizio legato alla scelta dei candidati per le prossime comunali a Bari. Intanto adesso vediamo il servizio che avevamo lanciato poc'anzi, proprio in vista delle primarie. Michele Laforgia si dichiara pronto e aspetta l'ufficialità delle date sull'immagine della Bari che verrà, se dovesse scegliere, ha detto tra la fiction di Lolita e la Capagira, sceglierebbe sicuramente quella di Lolita. Vediamo perché nel servizio di Antonio. Basta Tony Accesi, occorrono coesione e distensione e tutti al voto con le primarie. Michele Laforgia ha le idee chiare nella corsa per il candidato sindaco per il centro-sinistra a Bari. Stiamo aspettando che ci dicano quali sono le regole e anche che ci dicano ufficialmente quando si vota, perché ovviamente lo vorremmo sapere da chi organizza le primarie e non dai giornali, ma credo che si farà nei prossimi giorni. Mi pare che la data l'abbiano già indicata il 7 aprile, poi su primarie libere dovremmo discutere, ma è una discussione che ormai non serve più a niente. Andiamo a votare, facciamo prima e meglio. Il tutto a margine dell'evento organizzato dall'Associazione Culturale La Giusta Causa, focus che si concentra su film fiction come La Capagira e Lolita Lobosco, che offrono uno spaccato del capoluogo pugliese e fanno riflettere sul presente. Lei dalla pancia della città che cittadinanza avverte in questi ultimi giorni alla luce delle notizie che stanno emergendo? Guardi, più che dagli ultimi giorni, chi frequenta la città e non soltanto la pancia, le cose non le ha lette sui giornali e non le ha viste nelle inchieste della magistratura, le conosce, soprattutto chi si occupa di politica. Io alcune cose le ho dette per molto tempo. D'altra parte, se uno vede l'iniziativa che stiamo facendo oggi e ricorda un film di molti anni fa ormai che si chiama La Capagira, quel film aveva già raccontato un pezzo di città che esisteva e che esiste e dal quale forse ci dobbiamo ancora liberare. Se dovessi fare una battuta vorrei vedere più la Bari di Lolita Lobosco che non la Bari della Capagira, cioè una Bari bella, vista dai droni, con il lungomare in prima fila, insomma con la parte buona che prevale. Questa è la situazione a Bari, andiamo a Taranto adesso per parlare di politica, vediamo la pagina d'apertura del capocronaca di Taranto del quotidiano. Il presidente dell'ex amniu affida ai social il suo sfogo dopo la mozione di sfiducia nei suoi confronti, presentata dal consigliere Liviano e poi bocciata. Infine commenta ufficialmente l'attività dell'azienda, vedete il titolo, Mancarelli dopo l'attacco in aula, Chimambiente è stata salvata. Poi leggiamo l'attacco, il consiglio comunale è andata in scena da parte di alcuni consiglieri un'indegna pantomima. Chiariamo subito, scrive il quotidiano, che ho grande rispetto per la massima assise cittadina e credo che quella assise sia sagra, però c'è un limite a tutto, è lo sfogo pubblicato sulla sua pagina Facebook dal presidente dell'amiu, ex amiu, adesso Chima Ambiente, Giampiero Mancarelli. Andiamo adesso a Brindisi, sempre per parlare di politica e di autonomia differenziata in particolare, rischia di distruggere la nostra regione e il meridione a Brindisi, l'incontro pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle. Sentiamo Fabrizio Caglianiello. Il progetto di autonomia differenziata del governo è un potenziale disastro per la sanità italiana, un attentato al servizio sanitario nazionale, una bomba pronta ad esplodere anche nella nostra regione. Durissimo il Movimento 5 Stelle che è organizzato a Brindisi nella splendida cornice di Bastioni San Giacomo, un incontro sull'autonomia differenziata, un appuntamento aperto a iscritti e simpatizzanti. Le principali perplessità riguardano il fatto che questa proposta di legge, così come è congegnata, non permette assolutamente di avere la possibilità di garantire quel minimo di livello di assistenza su tutto il territorio nazionale. La principale criticità è che distrugge lo Stato unitario per come è stato costruito, perché crea uno Stato che è stato definito, non è una mia parola, arlecchino. Io vorrei anche far capire che non è solo un problema che lascia le regioni povere, ma c'è un problema che proprio lo Stato viene disarticolato e questo sarà un grande problema economico. Un progetto scelerato che rischia di dividere il nostro paese è una vera e propria bomba, che rischia di creare ulteriori divergenze da nord a sud, ma anche nelle aree del nord, quindi non solo divari accentuati da nord a sud, ma anche nelle stesse aree del nord. Mettiamo da parte adesso la politica, parliamo di sicurezza, di forze dell'ordine, perché è stata celebrata la giornale della sicurezza degli operatori sanitari con varie manifestazioni che abbiamo seguito. Andiamo a Lecce a tal proposito, in occasione di questa giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Il questore di Lecce, Massimo Modeo, ha commentato l'inaugurazione del presidio di sicurezza all'interno del pronto soccorso di Lecce. Servirà a disinnescare tensioni, ha detto il questore Modeo. Sentiamo. Lo Stato è presente e vuole esserlo anche a fianco di quei medici che ogni giorno si mettono al servizio dei cittadini. Un presidio di sicurezza garantirà il controllo all'interno del pronto soccorso di Lecce, grazie all'impegno del prefetto e del questore. Signor questore, parliamo di sicurezza. Proprio all'interno del pronto soccorso Vito Fazzi è stata potenziata la sicurezza per garantire agli operatori sanitari di lavorare in serenità. Assolutamente sì. Da stamattina, grazie alla disponibilità dell'azienda sanitaria, è reso operativo un nuovo posto di polizia. Ci siamo spostati, ci siamo avvicinati al pronto soccorso il punto più critico della stessa struttura sanitaria e quindi l'utente avrà la possibilità di interloquire direttamente con noi in un posto frattualmente fruibile, ben più visibile. Secondo lei questo può anche disinnescare dei malumori dovuti ovviamente alle tensioni in quel momento di necessità? Assolutamente sì. Vedere il logo polizia di Stato essere operativi insieme alle altre forze dell'ordine è sicuramente qualcosa di più positiva. Vediamo come i giornali hanno affrontato anche oggi l'inchiesta sulla mafia a Bari, le mani sulla città. Ecco vedete Bari indagate, le due vigilesse che chiesero aiuto al mafioso. La DDA omessa denuncia, il comune le ha già sospese, rischiano il licenziamento. Insultate da un'automobilista, il retroscena a questi fatti, gli agenti chiesero al braccio destro di Tommy Parisi di vendicare le offese ricevute da un uomo che avevano multato. L'unidì intanto il riesame dei Lorusso, la ex consigliera comunale Maria Carmen, moglie di Olivieri e il padre Vito sono ai domiciliari con l'accusa di voto di scambio. E adesso andiamo a Potenza dove si è riunito il Comitato in Prefettura e il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare un tema delicato che sta imperversando in Lucania negli ultimi giorni, ovvero gli assalti ai banco, ma tra le ATM. Vediamo il servizio del nostro corrispondente dalla Lucania, dalla Basilicata, Francesco Cutro. Sono stati cinque d'ottobre ad oggi furti ad ATM nella provincia di Potenza, avvenuti tutti con la tecnica della marmotta e concentrati prevalentemente nell'area del Vulture Melfese. Si ipotizza quindi una provenienza malavitosa dalla vicina Puglia. La recrudescenza di tali delitti ha portato il prefetto di Potenza alla convocazione di un dedicato tavolo della sicurezza al quale hanno preso parte, oltre alle forze di polizia, anche i responsabili dell'area territoriale sud di poste italiane. Per arginare il fenomeno si pensa, oltre all'intensificazione dei controlli, anche alla chiusura degli sportelli automatici nelle ore notturne. Sì, c'è indubbiamente un incremento del numero degli attacchi agli ATM, ai Bancomat di banche e poste italiane. Abbiamo registrato dall'inizio dell'anno esattamente sei tra forti e tentati che hanno riguardato tutta l'area del Vulture Melfese. Sappiamo che nelle province vicine di Foggia e della Bat ci sono stati in particolare 18 episodi di aggressione agli sportelli ATM di poste italiane. E quindi una prima misura che sul piano delle azioni di prevenzione poste italiane intende portare avanti, come ha già fatto per quelle province, è quella di ipotizzare una sorta di messa fuori servizio degli stessi sportelli nelle fasce orarie notturne. Tutti gli episodi si sono verificati con la stessa tecnica, cioè l'uso della cosiddetta marmotta, cioè di una sorta di aggressione anche artigianale, con esplosivo artigianale. Intanto sulla Gazzetta del Mezzogiorno vediamo questo titolo. I viaggi nel mondo di Bari, ma la Regione nasconde le spese. La delegata alla cultura della Regione Puglia da due anni gira tra Washington, Cina e in mezza Italia. I rimborsi sono pubblici per legge, eppure gli uffici non li forniscono. Vedete questo titolo della Gazzetta del Mezzogiorno di oggi? I costi della politica, uno screenshot su Whatsapp. Un mese non è bastato per fornire documenti. Ieri sera è arrivata soltanto la foto di un riepilogo di sei viaggi per un totale di 2.800 euro. In questa foto vediamo la consigliera regionale Grazia di Bari, delegata alla cultura in Cina a novembre per una mostra. È ignota, scrive Massimiliano Scagliarini sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la spesa sostenuta. Non si sa quanto è costato questo viaggio, questa l'inchiesta della Gazzetta del Mezzogiorno. Adesso andiamo avanti, restando a Bari, maggiore sicurezza nel mondo del commercio e maggiori tutele per le attività. Nella sede barese di Confcommercio gli imprenditori incontrano il prefetto del capologo pugliese russo, emersa una buona intesa su più aspetti. Sentiamo. La sicurezza nel mondo imprenditoriale è fatto di attività commerciali al centro dell'incontro nella sede di Confcommercio a Bari con il prefetto russo. Tante categorie rappresentate, tanto dialogo e diverse proposte sul tavolo. Io non direi un affresco così negativo, un affresco sicuramente molto attento, molto preoccupato. C'è il fenomeno dei furti d'auto, rispetto ai quali però le forze di polizia fanno tantissimi servizi, ma è evidente che è un fenomeno molto sentito e serio, a cui noi dedichiamo molte risorse, ma bisogna dedicarne sempre di più. Per quanto riguarda, invece ho visto una grande attenzione in generale al tema della legalità, quindi la lotta all'abusivismo, alla contraffazione. Abbiamo in corso già due protocolli, uno l'avevamo già in cantiere, un altro l'abbiamo appunto verificato oggi con Assoro, da fare subito, da fare presto. Un bilancio che si conferma soddisfacente e che può aiutare anche i settori più fragili. Il commercio e gli imprenditori sono delle radioline che vanno ascoltate e il prefetto ha ascoltato e ci ha dato la strada maestra. Sono sicuro che potremmo operare con i nostri protocolli di intesa e sulla sicurezza sempre meglio e sono sicuro ancora che anche la parte dell'ambulandato, che in questo periodo sta soffrendo moltissimo perché le aziende stanno cessando le proprie attività, invece verrà attenzionato. E adesso andiamo a Brindisi per parlare di un evento. La Corte d'Appello di Lecce ha disposto la restituzione di beni sequestrati a un pregiudicato brindisino condannato per associazione mafiosa e contrabbando. Sentiamo già Marco Di Napoli. Saranno restituiti i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brindisi alla famiglia di Teodoro Vindice. Il pregiudicato di 57 anni, già condannato per associazione mafiosa, contrabbando e altri reati, la Corte d'Appello di Lecce ha accolto l'istanza presentata dalla difesa. Eppur ribadendo la pericolosità sociale dell'uomo, nei cui confronti è stata confermata la misura di prevenzione personale applicata su richiesta della DDA di Lecce, ha disposto la restituzione del patrimonio sequestrato in via preventiva, in quanto ha ritenuto alcuni di quei beni giustificabili e altri non riconducibili a Vindice. Una parte del patrimonio, hanno rilevato i giudici, fu acquistata grazie alla vendita di un immobile a Castelmaggiore, comprato e ristrutturato, ha dimostrato la difesa, con denari di provenienza lecita e poi rivenduto. Per quanto riguarda gli altri beni, la Corte d'Appello ha rilevato che le polizie assicurative e i saldi sui conti postali, le autovetture e le partecipazioni societarie non si sono acquisiti elementi che possono indicarne la riferibilità a Teodoro Vindice, quindi vanno dissequestrati. Torniamo in diretta e andiamo a Foggia, dove c'è caos per i disagi che sono legati alle tariffe dei parcheggi. Spuntano cartelli di indignazione su alcuni parchimetri, i cittadini lamentano questi disagi e lanciano anche un appello alla società che ha in gestione la sosta tariffata. Siamo andati a tastare il polso ai foggiani e a capire quello che sta succedendo con Antonella Davola. Dalla tariffa al furto è un attimo ancora, il tempo è denaro ma si sta esagerando. Si legge in alcuni cartelli comparsi nelle scorse ore sui parchimetri di alcune vie della città di Foggia. Monta l'indignazione dei cittadini che lamentano il fatto di non poter usufruire, oltre che della tariffa oraria, anche della frazione di ora. I disagi segnalati al Comune e alla società GPS che gestisce il servizio sono all'ordine del giorno. Questo l'appello lanciato dal Comitato La Società Civile. Siamo anche noi indignati, perché alla fine la tariffa puntuale, che era quella che si applicava prima, ovvero praticamente in base a quanto si metteva, in base alla moneta che si metteva, veniva calcolato un orario in cui si poteva sostare. Ecco sarebbe la cosa più giusta da fare, perché se anche la GPS aduce come scusa il discorso che vuole incentivare l'uso del bancomat, della carta o dell'app, non è una cosa giusta, perché le monete esistono, qui c'è, quindi alla fine perché uno non dovrebbe avere quello che gli spetta? Ecco. Quale altra situazione sollevate, qual'altra critica sollevate? Parlavate anche del parcheggio. Sì, e questa è un'altra cosa, il parcheggio russo, che è quello vicino al Comune, non permette la sosta ai cicli e ai motocicli, quindi anche questa cosa andrebbe rivista. C'è anche un'altra cosa, chiediamo per il decoro urbano, che venga ripristinato il vetro della cosiddetta piramide che sta sul parcheggio russo, quindi ci auguriamo che la GPS ci ascolti, perché noi ci facciamo portavoce di un po' tutti i cittadini. Intanto restiamo a Foggia perché è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Caserta nel tratto Benevento-Ariano-Irpino. I tecnici della rete ferroviaria italiana sono al lavoro per verificare lo stato dell'infrastruttura. La riprogrammazione dell'offerta commerciale dei treni a lunga percorrenza e in corso. Alcuni treni della tratta Roma-Bari-Lecce saranno attestati nelle stazioni di Caserta-Benevento-Ariano-Irpino e Foggia. Altri seguiranno percorsi alternativi. È stato attivato da RFI un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall'interruzione con tempi di percorrenza che ovviamente varieranno in funzione del traffico stradale. Dunque c'è questa interruzione della linea Foggia-Caserta a causa di una frana. Intanto per chi volesse notizie sulla percorribilità di quel tratto ferroviario può recarsi sul sito di RFI Info Mobilità RFI. Vedete l'ultimo aggiornamento in merito a questa tratta è alle 6 di oggi. Ve lo leggiamo. Sulla linea Caserta-Foggia la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Ariano-Irpino e Benevento per un inconveniente tecnico alla linea. In corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale i treni potranno subire limitazioni, cancellazioni e variazioni di percorso. È stato attivato il servizio sostitutivo con bus. Dunque vedete basta trovare su Google Info Mobilità RFI e saprete l'aggiornamento in tempo reale della circolazione ferroviaria sospesa tra Benevento e Ariano-Irpino sulla tratta Foggia-Caserta. Andiamo avanti adesso andando a Potenza. È stata presentata nel quartiere Bucaletto di Potenza la struttura di prossimità voluta dalla ASP e coprogettata con la Caritas Diocesana. Nata per essere vicina alle persone assistite dal punto di vista sanitario favorendone la permanenza negli abituali luoghi di vita. È questo l'obiettivo della struttura di prossimità voluta dall'ASP e coprogettata con la Caritas Diocesana inaugurata nel quartiere di Bucaletto a Potenza e che sarà aperta alla comunità in forma di co-housing con centro servizi a sostegno della domiciliarità e che prevede una serie di progetti di cura personalizzati che coinvolgono professionalità sanitarie e sociali rivolti prevalentemente alle persone fragili comprese in carico e riabilitazione. Oggi sicuramente è una bella giornata di soddisfazione, si raggiunge la realizzazione di questa struttura di prossimità attraverso la sinergia tra diversi enti, la regione Basilicata in primis, l'ASP, il Comune di Potenza e la Caritas. Una struttura di prossimità che significa una facilità di accessibilità ai servizi sanitari dei parti dei cittadini che ben si inserisce in una strategia complessiva che stiamo portando avanti con un investimento importantissimo di oltre 80 milioni di euro per la realizzazione delle 19 case di comunità, dei 5 ospedali di comunità e delle cotte attraverso la realizzazione della misura da 6 del PNRR. Questo è un progetto bellissimo che io per la verità e per onestà intellettuale ho reeditato ma che ho volutamente cercato di portare a compimento di intesa con il Comune, di intesa con la Caritas, di intesa con Regione. È un progetto che è sostanzialmente il primo di una serie di strutture di prossimità che il decreto ministeriale 77 vuole che vengano realizzate, quindi case di comunità, ospedali di comunità e quant'altro. Ma questo è sicuramente forse il più bello perché insiste in un'area urbana particolarmente bisognosa e perché è frutto di una serie di attraenti per il bene comune. Vediamo la prima pagina di oggi di Repubblica, l'edizione di Bari. Vedete il titolo B&B di lusso, tocca a Via Sparano, prosegue la corsa del mercato e il clan Palermiti lanciò una start-up per turisti disabili. Leggiamo l'attacco al pezzo di Gabriele Matteis e Chiara Spagnolo. Il cantiere è stato aperto in questi giorni e porterà la trasformazione di un piccolo palazzo che vediamo in Via Sparano in una struttura ricettiva, un bed and breakfast o una boutique hotel nella zona commerciale della città. Il progetto è in linea con la trasformazione edilizia che sta caratterizzando in questi mesi molti immobili cittadini del capoluogo sempre più spesso utilizzati e ristrutturati per diventare delle strutture ricettive. Poi vedete di spalla la Regione, il piano casa modificato, no al cumulo incentivi e gli interventi in corso di costruzione. Il Consiglio regionale ha apportato delle modifiche al nuovo piano casa, recependo le richieste del Governo per evitare l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale. Il Consigliere regionale delegato all'urbanistica Stefano Lacatena ha spiegato che a seguito del confronto avuto con il Ministro competente sono state ridotte le richieste del Governo a quattro elementi. Andiamo a centropagina, centrodestra pronto al nome e il Merchiorre fa il pieno di sì. Gli occhi dei militanti del fronte conservatore barese sono rivolti a Roma e da lì che si attende forse già oggi la fumata bianca che potrà dare il risponso su chi sarà il candidato sindaco che dovrà affrontare il vincitore delle primarie del campo largo, ovvero del centrosinistra. In conclave il centrodestra al completo sta affrontando il caso Bari. La fotonotizia, la proposta di Bonelli, la decarbonizzazione dell'ex silva, un rebus, meglio dirottare le risorse sull'ambiente. Poi la cronaca giudiziaria, il processo operata, poi Morino ospedale, ci sono due imputati, la mostra via Traiana, allegoria di una strada, un gran tour attraverso la storia, poi la lettura, impegno civile ma anche musica, storia di Liliana. Questi i titoli che quest'oggi trovate sulla prima pagina della Repubblica nella cronaca regionale di Bari. Andiamo a Lecce dove il sindaco Carlo Salvemini ha proseguito il suo tour nei quartieri guardando già al prossimo mandato. Salvemini prosegue il suo lavoro in città e nei quartieri. Attenzione per il primo cittadino non solo a quei quartieri vitrina ma anche a quelle zone con particolari problematiche ed i progetti sembrano proprio non fermarsi a questo mandato. E questo è il più grande quartiere della città di Lecce, il quartiere del stadio, tre parrocchie, scuole, impianti sportivi, un quartiere che è un cuore pulsante. Io ci sono molto legato, lo considero bellissimo e tra l'altro ci stiamo molto investendo. Abbiamo programmato 15 milioni di euro di nuovi investimenti qui nel quartiere che stavano in fase di realizzazione alcuni e in fase di programmazione e di esecuzione gli altri. Continueranno il suo prossimo mandato? Andranno avanti indipendentemente da chi governerà la città, questo è un vantaggio per tutti. E' un investimento sul quartiere, non in un investimento del sindaco Salvemini. Andranno avanti comunque, naturalmente a me farebbe piacere poter essere io a proseguire ma mi affiderò come giusto che sia in un sistema democratico al voto popolare. Sugli atti vandalici che si sono verificati all'interno dell'ascensore e del vano scale del parcheggio Orti del Duca, siamo a Martina Franca in Valle d'Itria. La polizia locale ha avviato le indagini per risalire ai responsabili. Siamo andati sul posto con Ottavio Cristoforo. La polizia locale di Martina Franca ha acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, ancora atti vandalici lo scorso fine settimana all'interno dell'ascensore e del vano scale del parcheggio Orti del Duca. Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria e della polizia locale hanno esaminato accuratamente le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza acquisendo elementi utili per giungere all'identificazione dei presunti autori. Dell'accaduto inoltre è stata informata la Procura della Repubblica di Taranto. Gli uffici del settore patrimonio del Comune hanno già provveduto a disporre gli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. È una situazione che ci sta diciamo ormai coinvolgendo da parecchi mesi, quindi a parte aver attivato tutta una serie di controlli nuovi e anche i contatti con la polizia e la procura, quindi adesso siamo nelle condizioni di dire che il controllo da parte nostra avrà una verifica maggiore. Quello verificatosi dal fine settimana scorso è solo l'ultimo di una serie di atti vandalici perpetrati sempre ai danni degli immobili presenti all'interno del parcheggio Orti del Duca, munito in diversi punti da telecamere. Anche sui precedenti episodi sono in corso le indagini degli agenti della polizia locale. La Giunta ha deliberato la proposta di affidamento in gestione della Orti del Duca sia del parcheggio che dei locali commerciali e nei prossimi giorni il bando verrà pubblicato sulla sezione trasparenza. Questo ci consentirà di avere un gestore a tutti gli effetti di quei luoghi e sicuramente un controllo maggiore di quello che solo le telecamere o il buonsenso dei cittadini possono fare. E torneremo su questo argomento, vi faremo sapere come andrà a finire, come si svilupperanno le indagini alla polizia locale di Martina Franca perché quello degli atti vandalici è un terribile gesto di inciviltà che purtroppo persiste. Non ci si scolla da questa malsana abitudine su tutti i fronti, sull'abbandono dei rifiuti, sulla deturpazione delle cose pubbliche, sui danni che vengono provocati ai diversamente abili, insomma c'è questa recrudescenza di fatti davvero incresciosi di cui non se ne può proprio più e allora noi terremo sempre alta la guardia su questa questione. Andiamo avanti adesso vedendo questo titolo che giunge da Brindisi, quotidiano, rebus viabilità, la società avrebbe ordinato le nuove barriere, il vice sindaco ha detto ci hanno garantito tempi brevi. Per quanto riguarda la rampa, code e attesa per i lavori, Oggiano, rassicurazioni da Anas, Salvatore Morelli su quotidiano fa un escursus su questa vicenda, uno zoom perizie dopo l'incidente dell'autocisterna, terminate le verifiche, sarà presto sostituito il guard rail diverto sabato scorso, poi la bretella sulla statale 7, il pressing del comune, il vice sul posto, a breve la fornitura, poi il traffico congestionato sul rondo di Viappia a tre giorni dall'incidente, resta chiuso lo svincolo per la tangenziale per Lecce. Vediamo quest'altro titolo, sempre restando Brindisi, esplode il tombino sotto la pioggia, sversamenti di fogna nel porticciolo, che brutta cosa, finiti in mare i riquami della condotta fognaria sul lungomare, bellissimo lungomare Vespucci di Brindisi, a destra vediamo il tombino in questa foto del quotidiano, esploso a sinistra lo sversamento della fogna nelle acque del porticciolo e quello della rete fognaria è un altro problema che va affrontato, anche perché molto spesso ci troviamo di fronte a delle infrastrutture che sono vecchie, stravecchie, che non riescono più a sopportare il peso dell'aumento della popolazione e della crescita demografica. Intanto a Taranto c'è una buona notizia, perché c'è già un progetto per realizzare una nuova struttura simbolo della città bimare, ovvero il ponte girevole. Sentiamo Gianmarco Sanzolino. Non più un semplice restyling come annunciato ad agosto del 2022, ma sarà un ponte tutto nuovo, quello girevole di Taranto il secondo installato in città 66 anni fa. La Marina Militare infatti ha avviato l'iter per la costruzione di una nuova e tecnologicamente assicurano più avanzata struttura di collegamento tra l'isola antica e la città nuova. Il progetto è affidato all'ingegnere e architetto milanese Massimo Mejovic, esperto di strutture in acciaio non convenzionali. Il completamento della frase progettuale è atteso per i primi mesi del 2025, mentre i lavori verranno avviati nel 2026. Tra le varie ipotesi vagliate, spiega la Miraglio Biaggi alla guida di Marina Sud, questa ci permetterà di ridurre al minimo i possibili disagi che potranno sorgere nella fase di sostituzione dell'intera struttura. I meccanismi e l'automazione saranno ottimizzati consentendo di interrompere il traffico urbano per pochi minuti in occasione del passaggio delle grandi unità navari dal canale navigabile. Il nuovo ponte integrerà le nuove piste ciclabili e le BRT, le due linee di metropolitana leggera di superficie alimentate ad energia elettrica. Adesso andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, scoperta una discarica nella BAT con scocche di auto rubate. Vedete il titolo che troviamo a pagina 10 dell'edizione di oggi della Gazzetta del Mezzogiorno. Un'altra decina di scheletri arrugginiti e accatastati in un'ex cava. Un vero e proprio cimitero di auto già scoperto e poi rimosso nel 2011 possibile, si chiede la Gazzetta del Mezzogiorno, che nessuno si sia mai accorto di nulla nelle consuete perlustrazioni dall'alto. E questa foto poi mi sembra abbastanza eloquente di quanto avviene in questa discarica abusiva di auto tra l'altro rubate. Vediamo Foggia-Caserta treni sospesi, ecco la notizia di cui parlavamo poc'anzi in merito alla tratta ferroviaria Foggia-Caserta, tra Benevento Ariano e Irpino c'è stata questa frana e quindi i viaggiatori costretti a proseguire in autobus a causa di una frana sulla tratta Irpina. Il caos sulla linea tra Puglia e Campania, tecnici di Trenitalia Lavoro, premio Plastic Flea in Puglia. Sono otto i comuni virtuosi, il riconoscimento, schierati contro l'inquinamento. Ecco i comuni in questa cartina che vediamo proposta dalla Gazzetta del Mezzogiorno sono Gioia del Colle, Cassano delle Murge, Castellaneta, Ceglie Messapica, Mottola, Manduria, Spongano e Castro Marina. Vediamo quest'altro titolo, lavoratori Arpa in subbuglio dopo il taglio della regione ai fondi, la denuncia dei sindacati, il servizio di Francesco Casula, centinaia di persone in sit-in, c'è chi preferisce licenziarsi ma è una anomalia. Andiamo avanti adesso con un altro servizio spostandoci a Barletta dove c'è stato un incontro, un incontro tra l'ordine degli avvocati, i rappresentanti dell'ordine degli avvocati e il mondo dello sport. Sentiamo. Nello sport ci sono le regole, oggi lo sport è business, lo sport è influenza sociale all'interno di regole, bisogna capire oggi anche chi comanda nello sport. diritto, educazione, cultura, sono queste le sfaccettature dello sport al centro dell'incontro promosso dall'associazione Avvocati Barletta, focus speciale dedicato alla riflessione sull'evoluzione dell'ordinamento sportivo e sulla disciplina del settore. Ospiti dell'evento condotto dalla moderatrice e giornalista sportiva Claudia Carbonara, esponenti di serie A si può dire, nel mondo dello sport e del diritto. Lo sport ha mille effetti trasversali nella società moderna, da uno sport in senso romantico a uno sport legato al business, dove il giro d'affari è pazzesco, però nello stesso tempo l'elemento dell'emozione, l'elemento della passione comunque è rimasto. È ovvio che più si va in alto, più si va nel mondo professionistico e si parla di business perché diventa una professione a tutti gli effetti. A patrocinare l'evento formativo accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Trani, anche il Comune di Barletta, che tramite il sindaco Cosimo Cannito, ha conferito ai rappresentanti eccellenti della città della disfide nel mondo dello sport un riconoscimento per essersi distinti lodevolmente nella valorizzazione del proprio territorio tramite l'attività professionale. Il calcio si è evoluto tantissimo, ho cominciato nel 83-84, oggi siamo nel 2024, quindi i cambiamenti sono stati notevoli e ce ne sono sempre all'ordine del giorno, ogni giorno, ogni mese, ogni anno cambia sempre, sarà sempre così, è il mondo che avanza, è la vita. Andiamo a vedere adesso il capocronaca di Bari del quotidiano, Costa Sud una nuova convocazione, due settimane per ricompattarsi, Samantha Dell'Edera propone questa tematica, dopo il rinvio la conferenza dei capigruppo ha deciso la nuova data, si torna in aula il 25 marzo e la maggioranza ora ha il tempo per provare a ricucire lo strappo con all'attacco di De Caro, attendiamo le sue scuse, tornerà in aula dunque, vedete anche questa fotonotizia, il 25 marzo il piano urbanistico di Costa Sud, le delibere inerenti gli ultimi due lotti rimasti Punta Perotti e Torre Carnosa, intanto vedete quest'altro titolo e Torre Quetta apre con l'anteprima, festa irlandese e quindi la stagione, la bella stagione può partire, il 17 marzo in occasione del St. Patrick's Day aprirà con una grande festa la spiaggia di Torre Quetta e l'Ido Barese, il più grande della città, spalancherà le porte ai cittadini presentando però solo alcune novità dell'estate, si tratta infatti di un primo assaggio di stagione, quindi 17 marzo il taglio del nastro per questa nuova stagione, primavera estate di Torre Quetta, questa bella spiaggia della città di Bari. Andiamo a San Giovanni Rotondo adesso perché c'è stata una giornata dedicata alla solidarietà, alla vicinanza da parte della nostra Arma dei Carabinieri che ha visitato i piccoli degenti dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, non è stata soltanto una visita, c'erano anche dei doni. Vediamo il servizio, il bel servizio di Antonella d'Argola. Tre, due, uno, aprite gli occhi. Oh, sì! Se al letto del malato non portate l'amore, non credo che i farmaci servano a molto. Sono parole di San Pio, fondatore di Casa Sollevo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e della cui autenticità sono convinti circa 250 allievi carabinieri della scuola di Campobasso che nelle scorse ore si sono resi protagonisti di uno straordinario esempio di umanità e solidarietà. Dopo una breve visita guidata presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie e la partecipazione alla Santa Messa, una delegazione di allievi carabinieri accolti dal comandante provinciale di Foggia e il colonnello Michele Miulli e da una rappresentanza della locale compagnia si è recata presso Casa Sollevo della Sofferenza dove ha donato ai bambini ricoverati giocattoli e uova pasquali. A seguire ai responsabili della struttura sanitaria è stato consegnato un assegno di 8.500 euro per l'acquisto di un bene che verrà individuato d'intesa e che potrà testimoniare nel tempo l'affettuosa vicinanza dell'arma. È bello vedere come ragazzi e ragazze così giovani abbiano colto così profondamente i valori di solidarietà e vicinanza alla gente che l'arma ha sempre tramandato e custodito nel tempo, rendendosi protagonisti di un gesto che ha arricchito il loro patrimonio di esperienze e che soprattutto nasce da una loro iniziativa. Queste le parole del comandante provinciale Michele Miulli, a cui si aggiungono quelle della dottoressa Maria Rosaria Pastore, primaria del reparto di pediatria generale. L'umanizzazione delle cure passa attraverso anche questi gesti d'amore. Ai nostri bimbi sono stati donati tanti sorrisi e carezze. Un grazie di cuore all'arma dei carabinieri e ai loro splendidi allievi. Davvero un bel gesto, belle immagini suggestive. Andiamo avanti adesso andando sui giornali, nuovamente sul quotidiano, sempre a Bari per la cronaca, occupazioni abusive sul litorale Sgomberi al via evacuati in 50. Sono cominciate le operazioni di sfratto delle 22 famiglie da un immobile del lungomare Traiano di Bari, costretti ad abbandonare lo stabile, numerosi minori assistiti dagli assistenti sociali del comune. Dunque c'è questa vicenda che tiene alto la guardia, l'attenzione della cronaca. Si tratta di un edificio fatiscente che sorge a due passi dalla spiaggia. decine di agenti della Polizia di Stato in servizio, in obbio di questa attività. Le operazioni di sgombero degli abusivi sono state avviate proprio nelle scorse ore sul lungomare Imperatore Traiano a Bari. Andiamo avanti adesso vedendo qualche titolo sul nostro sito, sul sito di Antenna Sud. Vedete per quanto riguarda la politica c'è anche questa vicenda amministrativa che riguarda Trinitapoli che è un comune della BAT dove si va al rinnovo del Consiglio Comunale. Elezioni Trinitapoli, 10 giorni per il candidato del centro-sinistra. Vediamo Domenico De Santis che è il coordinatore regionale del PD una settimana o al massimo 10 giorni per individuare il candidato che andrà a correre per la carica di sindaco per il centro-sinistra a Trinitapoli. Vediamo altri titoli sul nostro sito www.antenasud.com che vi ricordo è sempre in costante aggiornamento. L'uomo dietro l'assessore vediamo questo titolo, Sebastiano Leo si racconta a Mattina Sud. C'è stata la presenza dell'assessore regionale nei nostri studi nel corso della puntata di Mattina Sud con Gianmarco Sanzolino e Anna Saponaro e noi questo servizio ve lo facciamo vedere tra poco, adesso però abbiamo lo spazio dedicato al telegiornale sportivo, quindi concentriamoci sullo sport, poi faremo la rassegna stampa sportiva e poi torneremo sulla cronaca, sui fatti al servizio dell'assessore regionale Leo nei nostri studi e tante altre notizie, titoli di giornali che stamattina troverete in edicola. A dopo. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.